Oggi in Commissione Ambiente avevamo all'ordine del giorno il famoso terzo atto aggiuntivo della Convenzione della Superstrada Pedemontana Veneta che ha portato il Consiglio regionale la scorsa settimana ad approvare con i voti contrari di noi e della minoranza una nuova tassa per la Superstrada Pedemontana Veneta. Abbiamo fatto diverse richieste di chiarimenti in merito al flusso del traffico, in merito alla questione delle penali, in merito alla possibilità di chiedere preventivi pareri ad ANAC e Corte dei Conti. Devo dire che le risposte che abbiamo ottenute, seppur articolate almeno personalmente, non mi hanno soddisfatto e quindi credo che restino ancora purtroppo troppi punti interrogativi su questo terzo atto aggiuntivo che a mio avviso doveva essere preventivamente sottoposto all'ANAC e alla Corte dei Conti, almeno dico all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione che ha come proprio ruolo quello di collaborare e di dare dei pareri alle pubbliche amministrazioni quando si tratta di impegnare importanti fondi pubblici come quelli che si impegneranno per questa Superstrada Pedemontana.